ATTENZIONE VOLANTE QUINDICI DIETREI DIETRO CHICOTE CINQUA LA GIOIELLERIA IL PROPETERIO CI HA CHIAMATO AL 113 MA NON STAMBIAMO IL MOTIVO HA CHIESTO SOLO DI INTERVENIRE DIETRO CHICOTE CINQUA DA LE ACCHIEDE SENZA CASCO POMPA VAI GIACCHINO MOLA SEI DI TU MEI SENZA TASTE SENZA MASCHERINI INANZITUTTO ASPENTA STO MONTOR Janina JANINA EL TELEM� LOMAS Scr. DR. ZERO DR. LOMAS DR. VAN